Lian Wong per gli Stati Uniti Entrata con 13, 633 Rondata, flick, salto teso, due avvitamenti Buono, partiva da una difficoltà di 5 Igor Quindi notevolmente più bassa rispetto a quella della Bytes La prima 6,40, la seconda 5,60 Quindi non dovrebbe andare a insidiare Lian Wong Le zone nobili della classifica Questo è un salto che può dare la possibilità di avvicinarsi a un 14,200 E nella gara di qualificazione ha presentato un secondo salto con una difficoltà più bassa Quindi salvo che varierà il suo secondo salto Se ha nelle corde di presentare un salto più importante E avere margini di opportunità di avvicinarsi a una medaglia Altrimenti sarà complicato per lei Vediamo nella fase rallentata Appunto la rondata Il flick Ha i piedi un pochino incrociati E questo è una penalità Incrociare Ma questo in qualsiasi attrezzo Che siano le gambe un po' piegate o incrociate o aperte Sono l'equivalente di una penalità da parte della giuria Non è comunque all'altezza di entrare nel podio la Wong Vediamo adesso la valutazione del secondo 14,10 è buono 14,10 è buono Ma ricordiamo che se tattica del volteggio viene rispettata Il secondo punteggio di solito è più contenuto Igor Infatti la difficoltà passa da 5 del primo volteggio a 4,80 del secondo Una tattica che non sempre è rispettata a livello internazionale È vero 9,10 si presenta il primo salto Quello più complesso Quello più complicato E il secondo Quello più in sicurezza Vediamo Rondata Flick mezzo giro Salto teso mezzo giro Andata fuori riga E anche fuori dal podio La statunitense Wong Però è contenta lo stesso Ha fatto il suo Andiamo a vedere adesso Dopo il punteggio della Wong La Baxai L'ungherese che era la prima riserva Saint-Germarie Baxai L'ungherese che era la prima riserva L'ungherese che era la prima riserva L'ungherese che era la prima riserva Ecco il secondo Volteggio della Wong Dicevamo che parte da una valutazione più bassa 4,80 Avevamo ottenuto prima un buon 14,133 Adesso vediamo La seconda valutazione che farà la media Questo è lo stesso salto Non è lo stesso salto Preso dalla stessa posizione Nello stesso gruppo strutturale La rondata Flick mezzo giro La Biles ha aggiunto A questo salto un avvitamento Questo è Rondata Flick mezzo giro Salto teso mezzo giro La Biles ha aggiunto un avvitamento Eccolo qui 12,833 per il secondo punteggio Va in seconda posizione Scavalca facilmente la DVR Con 13,466 Adesso andiamo a vedere Seng Baksai